Anche rispetto ai tempi che vengono utilizzati sistematicamente come un randello verso chi vuole far perdere tempo, vuole decelerare rispetto alle cose importanti che il Governo mette in campo, è facile smentire. La media per l'approvazione delle leggi di iniziativa governativa nella tredicesima legislatura era di 271 giorni, nella diciassettesima è di 109. Dunque non c'è nessun ostruzionismo che l'opposizione mette in campo e che impedisce le magnifiche sorti e progressive del Governo Renzi.